Lo stadio è quello che noi avevamo descritto un anno fa prima dell'indagine e prima anche di tutte le polemiche che sono venute fuori. Sulla tribuna coperta c'è da fare delle opere ma non impegnative, sulle gradinate invece vanno demolite e ricostruite. Con questa relazione che è arrivata praticamente da un giorno noi daremo in carica agli uffici di iniziare l'opera di intanto progettazione e poi per bandire la gara complessiva o le gare divise, questo naturalmente ci penseranno i nostri tecnici a deciderlo, per ristrutturare lo stadio. Sappiate che naturalmente noi abbiamo già messo a bilancio 1.700.000 per l'intera ristrutturazione e noi contiamo con questa somma di riuscire a farcela e a ristrutturarlo completamente. Se non ce la facessimo naturalmente reintegreremo questo fondo con ulteriori somme.